La storia comincia così. Due fratelli, due piccoli fratelli, due fratellini litigano a causa di un'arancia. Botte, strepiti, una continua serie di insulti e attirata da questo litigio la madre interviene, prende l'arancia, prende un coltello, taglia in due l'arancia e mezza va a un fratello, l'altra mezza va all'altro fratello. Tuttavia, nonostante questo intervento e questa decisione della madre, i bimbi continuano a litigare e lo fanno lamentandosi. La nonna sente questo litigio, sente i lamenti e decide di intervenire. Solo che questa volta la nonna chiede perché continuate a lamentarvi? Cos'è che non è andato? Che cosa volevate? E allora uno dei fratelli risponde ma io avevo una gran sete e mezza arancia non mi basta e l'altro dice io stavo facendo un dolce, avevo bisogno di grattugiare tutta l'arancia, mezza arancia non mi basta. Ecco questa è una storia che solitamente chi insegna la materia di cui oggi molto brevemente vi voglio parlare, sceglie di raccontare all'inizio della riflessione e della relazione a proposito della gestione dei conflitti. Perché? Perché in questa storiella entrano tre diverse modalità di gestione del conflitto che hanno popolato l'evoluzione, lo sviluppo, la storia della gestione dei conflitti nella nostra civiltà. Prima di tutto la forza, i bambini si contendono l'arancia con, non dico la violenza, ma sicuramente esercitando un potere, una forza nella loro relazione. Poi interviene la madre che decide, decide vuol dire che taglia l'arancia e applica una norma, una regola, non è una norma giuridica, è una norma sociale, però decide che l'ecotrattamento fra i suoi figli è la regola che più corrisponde alla soluzione in quel determinato momento e quindi applica una norma. La terza modalità è quella della nonna, la nonna ascolta e ascolta qual è l'interesse di uno e dell'altro e insieme a loro trova una soluzione. Ecco, forza, diritto, decisione e interessi rappresentano i tre momenti fondamentali nello sviluppo, nella storia delle modalità di gestione del conflitto. I bambini usano la forza, la mamma usa il diritto, decide e la nonna usa l'ascolto degli interessi. Naturalmente la forza non è solo la forza fisica ma è anche la forza psicologica, è la forza economica, è la forza culturale, quindi immaginate una situazione nella quale la contesa e la gestione di un conflitto, di una lite, si risolva proprio nell'esercizio del potere. La forza è la dimensione del potere. Il diritto è la norma, il diritto è l'ordinamento giuridico, cioè l'insieme delle norme grazie al quale si crea ordine in una comunità e in una società. Le norme generano ordine e servono ad evitare l'uso della forza. Certo non basta che ci sia la norma, occorre anche che ci sia un'applicazione della norma e qui si arriva a quel livello dello sviluppo delle modalità di gestione del conflitto più avanzato, naturalmente rispetto allo stadio nel quale si applica il potere, si esercita il potere, si applica la forza, che è quello del diritto applicato dal giudice. La norma risponde alla domanda quale comportamento, il giudice risponde alla domanda chi applica la norma, il processo risponde alla domanda dove viene applicata la norma, la sentenza risponde a con quale mezzo. Questo è il campo di lavoro del giurista classico. L'ordinamento giuridico, le norme, le tutele dei diritti che nascono dalle norme, l'organizzazione dell'applicazione del diritto, la giurisdizione laddove si dice il diritto e si pronuncia la decisione. Sono le funzioni dello Stato affinché i cittadini possano vivere pacificamente ed è questa certezza dei diritti e dell'esistenza di un apparato che garantisce l'applicazione delle norme che determina la pacifica convivenza. Quindi un sistema nel quale le liti vengono portate dinnanzi al giudice affinché appliche i diritti. La violazione delle norme determina il richiamo al diritto e la sua applicazione e le conseguenze della violazione. Tenete presente che in un momento come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, il tema della violazione e delle responsabilità e quindi delle conseguenze per violazione delle norme si fa sentire potentemente in tutte le situazioni. Pensate all'illecito per la violazione delle regole del diritto del lavoro, dell'illecito così chiamato per violazione delle regole in materia di cura e sanità, dell'illecito per violazione delle regole contrattuali. Pensate alle imprese che avevano stipulato un contratto commerciale e che a causa della pandemia si sono trovate nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni. Hanno violato una norma che è quella che il contratto deve essere adempiuto. Ma non è di questo che oggi parliamo. Torniamo alla madre e alla sua decisione, quella basata sull'ecotrattamento fra i due figli e soffermiamoci sull'effetto di questa decisione. E cioè i bambini rimangono scontenti. La madre si è fermata lì, non ha fatto altro, il diritto si ferma lì. Il giurista nel tempo si è dedicato ad immaginare tutte le strade possibili affinché l'applicazione e il sistema diretto e dedicato all'applicazione del diritto rispondano alle esigenze della società, al bisogno di ordine, ma si ferma alle posizioni, alle cosiddette posizioni giuridiche, cioè alle situazioni giuridiche soggettive, per dirla nei termini più tecnici che troverete allora quando studierete giurisprudenza e diritto. Non si ferma, non entra negli interessi, non entra nelle motivazioni profonde, non pone domande il diritto, non ascolta le risposte più profonde, come ha fatto invece la nonna. Il diritto dice come si deve fare, come ci si deve comportare, non chiede qual è il problema sotto le posizioni, quali sono le emozioni da cui scaturisce la lite, quali sono le paure, quali sono i timori. Si ferma a cosa è accaduto, al fatto e a quali sono le conseguenze delle eventuali violazioni. Il diritto si dice si ferma alla punta dell'iceberg, non va sotto a vedere tutto il resto che non contempla. E così se si applica diritto ci sarà sempre chi vince e chi perde, ma invece la nonna ha visto che i due bambini rimanevano comunque scontenti. Invece il diritto arriva a chi ha torto e chi ha ragione, sentenzia chi ha torto e chi ha ragione nel rispetto della norma, in applicazione della norma. In fondo come nella forza, non si esercita il potere, non si esercita la forza, però la conseguenza e la fine è la stessa. C'è qualcuno che vince, c'è qualcuno che perde, c'è qualcuno che ha ragione e c'è qualcuno che ha torto. Invece con la nonna che ha ascoltato e ha individuato il perché, ha scoperto insieme ai bambini il perché, entrambi escono vincenti. Perché? Perché prima si grattucia l'arancia e poi si spreme l'intera arancia e quindi si realizza quel modello che gli studiosi chiamano win-win. E ripercorrendo invece in modo più tecnico, per quanto possibile in questa sede, le varie fasi dello sviluppo, delle dimensioni della gestione del conflitto, allora noi vediamo un primo ordine, quello più antico che è quello della gestione con la forza, che è un ordine imposto, imposto dal potere. Un secondo ordine che è quello del diritto e dell'ordinamento giuridico, che poi rappresenta il modello più evoluto naturalmente, nel quale però l'ordine è sempre imposto, perché arriva dal diritto che è prodotto dallo Stato e dalla sentenza che è prodotta dal giudice funzionario dello Stato. Arriviamo invece a un terzo ordine, che è quello dell'accordo, cioè quello nel quale domina la negoziazione, la collaborazione delle persone che dal conflitto si parlano e individuano possibilmente da sole, ma altrimenti con l'aiuto di un professionista che si dedica a questo sostegno, a questo accompagnamento, arrivano ad un accordo. E allora le soluzioni si trovano in questo caso sul piano degli interessi e non sul piano delle ragioni e dei torti, non si lavora sulla controversia, sulla lite, sulla disputa, sulla causa nel processo, ma si lavora sul conflitto andandolo a vedere in tutte le sue parti. Ci si ascolta, ci si domanda perché, cosa si vorrebbe, come lo si vorrebbe e con l'aiuto appunto di un professionista si trova la soluzione. Un esempio, se sono ancora in tempo, che rappresenta una narrazione abbastanza utilizzata dagli studiosi di mediazione, di negoziazione, è quello del cammelliere. Il cammelliere ha tre figli, è malato e muore lasciando un testamento. Il testamento prevede che al primo figlio vada un mezzo dell'eredità, al secondo figlio un quarto dell'eredità e al terzo figlio un sesto. Però i figli aprono il testamento e trovano nel testamento che il cammelliere lascia undici cammelli. Vedete bene che è molto difficile fare un mezzo di undici cammelli, non è un bene divisibile, lo imparerete quando studierete il diritto. E anche un quarto non è possibile, a proposito di cammelli, dividerli undici cammelli per quattro e nemmeno un sesto. Cominciano a litigare. Il litigio si fa acceso e si realizza un escalation del conflitto. Anche questo è un fenomeno che si studia a proposito della mediazione. Nasce il conflitto, passa per caso un altro cammelliere con il suo cammello e decide di donare il suo cammello ai tre fratelli. Così i cammelli da undici diventano dodici e il primo fratello riceve sei cammelli, un mezzo di dodici, il secondo fratello riceve tre cammelli, un quarto di dodici e il terzo fratello riceve inveceversa quattro cammelli e poi tre cammelli e la somma però fa undici. Questa storia si narra per dimostrare che la ricerca di una sola azione che possa anche andare oltre le posizioni, oltre i diritti, ma che invece cerca l'opzione che nasce dalla comunità degli interessi e dal fatto che tutti potrebbero insieme immaginare un'opzione creativa, anche come creativa è stata in questo caso, e trovare piena soddisfazione dei propri interessi. Ecco, la regola del diritto, cioè il testamento che disciplina la successione, non bastava a risolvere il problema. Avrebbero dovuto rivolgersi al giudice, chiedere la vendita dei cammelli e poi distribuire il ricavato fra loro. Non sarebbero stati contenti perché avrebbero perso tutti i cammelli. Ecco, il giurista si è occupato solo recentemente di quest'altro mondo, che è la dimensione dell'accordo, dell'ordine negoziato e di ciò che serve, competenze e conoscenze, per poter affiancare i clienti che litigano anche a questo proposito, e cioè affiancarli in una dimensione nella quale, attraverso la collaborazione e la comprensione del problema e le motivazioni e gli interessi che sottendono il problema, si può trovare una soluzione che non è una soluzione transciante, chi ha torto o chi ha ragione, ma è una soluzione che soddisfa entrambi. Nasce così recentemente nel nostro Paese la figura del mediatore professionista. Pensate che in molte scuole di giurisprudenza ancora di mediazione non si parla, la mediazione non si insegna. Nella nostra scuola di giurisprudenza sono 16 anni che insegniamo mediazione, insegniamo ai professionisti, ai giuristi in erba a capire che i mondi sono almeno due, cioè uno è quello nel quale il giudice decide e l'altro è quello in cui le persone, con l'aiuto di un mediatore professionista, possono trovare una soluzione senza delegare la decisione ad altri, ma perseguendo l'obiettivo della massima soddisfazione. Grazie.